Ad annunciarlo il regista Fabio Schifilliti durante un incontro di alta formazione che si è tenuto nei giorni scorsi nella sede utilizzata dall'Ordine degli Avvocati dal Consiglio Forense per la formazione. La storia di Omaima Bengalum, la giovane mediatrice culturale uccisa a Messina a colpi di bastone dal marito, condannato all'ergastolo in appello, diventerà film. Nel cortometraggio che sarà girato in Tunisia e a Messina verranno raccontati gli ultimi giorni di vita di Omaima, le sue speranze, i suoi sogni, i suoi timori. Omaima fu uccisa dal marito il 4 settembre del 2015 al culmine di una lite. L'uomo non tollerava che la donna mancasse da casa per lavorare con i migranti e le contestava di non avergli dato un figlio maschio. Si tratta di un cortometraggio che sarà finanziato da una coproduzione italo-tunisina. La parte di Omaima è già stata affidata ad una famosa attrice francese che somiglia molto ad Omaima. Schifilliti ha vinto molti premi durante la sua carriera. L'ultimo suo film, Al di là del mare, si occupa proprio dei migranti e racconta la storia immaginaria di un minore non accompagnato che con la musica riesce a superare qualsiasi barriera. Un film che ha vinto numerosi premi internazionali. Schifilliti nel corso dell'incontro si è schierato apertamente, come tanti altri intellettuali, contro l'arresto del sindaco di Riace, sottolineando come a suo avviso quel modello di accoglienza abbia dato risposte concrete.